Ricordato Giovanni Damasceno, vissuto tra il 676 e il 749, nacque a Damasco. Dopo essere succeduto a suo padre alla corte del califo come logoteta o rappresentante dei cristiani, si oppose valorosamente all'imperatore iconoclasta Leone Disaurico, ma è ricordato soprattutto come teologo. Leone XIII lo proclamò dottore della Chiesa nel 1890. Commento Logoteta Logoteta L'unione delle religioni monoteistiche era sentita anche allora. L'unione delle religioni monoteistiche è un'unione delle religioni monoteistiche, L'unione delle religioni monoteistiche è un'unione delle religioni monoteistiche,